Sabato scorso i carabinieri di Rovigo hanno tratto in arresto su ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo una donna 68enne residente a Badia Polesine. La donna è ritenuta la responsabile dell'omicidio e del depezzamento del corpo del proprio marito che il 28 luglio scorso è stato recuperato nelle acque del fiume Adigetto all'interno dei sacchi di spazzatura dove era stato gettato.